Questo progetto nasce pensando ai ragazzi e pensando ad un bilancio sociale delle aziende e quindi riuscire a interagire con le nostre scuole pensando di formare i ragazzi non solo da un punto di vista tecnologico che è importante ma anche da un punto di vista umano, manageriale. In cosa comporta questa adozione delle scuole? Comporta da parte delle aziende del gruppo mecatronici bergamasco una funzione di responsabilità nell'accompagnare questi ragazzi in un percorso di 5 anni dove formeremo i ragazzi, ammoderneremo i laboratori e formeremo anche il corpo docente in coerenza con i bisogni delle aziende e di un mercato e di una tecnologia che sempre più spesso va veloce e si ammoderna e si rinnova continuamente. È un investimento sul territorio perché è un territorio nostro a vocazione manifatturiera però ha l'ambizione di essere un progetto che debba seguire una linea invece più nazionale che sia un po' la nave guida anche per altri territori nella creazione di un modello azienda-scuola in un rapporto di collaborazione duale con la scuola e con le aziende che possiamo esportare su tutto il territorio nazionale attraverso il network di confindustria.